buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo arriete fortuna successo soldi e amore ma solo se sarai tu a prendere l'iniziativa toro un'ottima mattinata dal punto di vista degli impegni pomeriggio e serata proseguono all'insegna della normalità gemelli prestate attenzione a ogni situazione che cambia soprattutto in amore cancro potreste sentirvi irritati a causa di una notizia che sopraggiungerà nel tardo pomeriggio ma non preoccupatevi in questi giorni arriverà una buona notizia che vi farà dimenticare questa irritazione leone il cielo oggi vi suggerisce le strategie giuste per risolvere qualche problema professionale e avviare nuovi progetti e nuove idee vergine avete sottovalutato una questione e adesso ne pagate le conseguenze cercate di essere più cauti bilancia un incontro particolare potrebbe sconvolgervi per quasi tutta la giornata in serata sarete più sereni ma occhio agli imprevisti scorpione potrebbero esserci novità positive in amore cogliete l'attimo e preservatele da ogni inquinamento di gelosia sagittario c'è chi si aspetta grandi cose da voi non deludete nessuno oggi e cercate di esprimervi sempre al meglio capricorno date tempo al tempo e troverete la soluzione a quel problema che vi affligge acquarrio oggi avrete buone prospettive per fare un piccolo investimento pesci giornata movimentata sarei piuttosto socievole questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo non 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 Grazie a tutti.